Mi piacerebbe tanto recarmi di nuovo ad un lago come tempo fa, disse, se soltanto potessi evitare la vista di individui più o meno nudi. Quindi, sappiate che appena cinque anni fa il corpo umano poteva ancora entusiasmarmi e le statue greche mi procuravano un piacere artistico. Ed ora, da quando mi sono cadute le bende dagli occhi, la loro vista mi tormenta come un dolore tisico. Nelle sculture moderne, come le forme vorticanti o snellissime, il fatto non è così grave, ma il corpo nudo di un individuo in vita è, e rimane per me, la cosa più orrenda che si possa immaginare. La bellezza classica è una suggestione scolastica ereditata, come una malattia contagiosa. Prendete una mano ad oggetto d'osservazione, un orrendo pezzo di carne con cinque lunghi repellenti mozziconi. Sedetevi con calma, guardatevi questa mano, e liberatevi da ogni ricordo legato a tale immagine. Osservatela, per dirla in breve, come qualcosa di completamente nuovo, e capirete cosa voglio dire. E se estenderete l'esperimento a tutta la figura umana, allora sarete assaliti dall'orrore, o meglio, dalla disperazione, dall'angoscia opprimente. Si percepisce sulla propria carne la maledizione della cacciata dal paradiso. Sì, è veramente bello soltanto ciò che non si può immaginare abbia confini. Come per esempio lo spazio, tutto il resto, ciò che è limitato, persino le ali più belle di farfalla, suscita l'impressione della menomazione. I confini, i limiti delle cose, mi spingeranno fino al punto di suicidarmi. Essi mi immiseriscono, ho una sensazione di soffocamento quando mi feriscono l'anima. Come ho già detto, se osservo alcune forme, come le linee stilizzate della secessione, la mia sofferenza è meno tormentosa, come, ma alla vista di forme naturali che, per così dire, crescono liberamente, le mie pene sono insopportabili. L'uomo, l'uomo, che cosa è attormentarmi così alla vista della nuda figura umana? Non riesco a trovarne la ragione. Gli mancano piume o squame o emanazioni di luce? Io lo vedo sempre davanti a me, come un'impalcatura, attorno alla quale manca il vero involucro, vuotata come una cornice senza il quadro. E allora, che cosa devo guardare con questi miei occhi, che non sopportano una simile immagine e tuttavia sembrano così illimitati? Claude Wingedona si era completamente perso nell'argomento. Infine, balzò in piedi e prese ad andare su e giù per la stanza, mordendosi nervoso le unghie. Lei si è certamente occupato molto di metafisica e di fisiognomica. Gli chiese un giovane russo, Petrov, io di fisiognomica no, e non ne ho bisogno. Mi basta vedere i pantaloni di qualcuno per sapere tutto su di lui e conoscerlo meglio di lui stesso. Non rida, signore. Lo dico con tutta serietà. La domanda doveva aver distolto Dolina dalle sue interminabili fantasticherie. Distratto si rimise seduto, poi d'un tratto si congedò, molto freddo e formale, dal resto della comitiva, che si guardò stupita, non particolarmente soddisfatta. Si era saputo troppo poco. Il giorno seguente, Donna fu trovato cadavere di fronte alla sua scrivania. Si era sparato davanti a lui un cristallo lungo, una trentina di centimetri. Le superfici erano riflettenti e gli angoli affilati. Nel bel mezzo della scena, una gigantesca bottiglia sferica, spessa almeno trenta centimetri, alta quasi quanto due uomini e molto spaziosa. Sullo sfondo dello scenario, un sipario di seta rosa. Le colossali porte debano della sala si spalancarono all'improvviso e fece il suo ingresso, tranquillo e maestoso, un elefante adorno di gioielli ed oro. Il boia gli sedeva sulla nuca e lo guidava con il manico della scure. Dalle punte delle zanne pendevano collane di ametiste ed ondeggiavano piccole trapunte di piume di pavone. Tessuti ricamati in oro, con ciuffi di setole rosa, ricoprivano i fianchi dell'animale toccando il pavimento. La fronte enorme, coperta da una rete di pietre preziose luccicanti, l'elefante attraversava maestoso il salone. Le maschere a frotte gli si ammassavano attorno, acclamando il variopinto stuolo dei protagonisti seduti sul baldacchino in groppa all'animale. Il principe d'Arasch o Con, con un turbante e un fermaglio di piume d'airone. Accanto a lui il conte de Fast, il Pierrot. Le marionette e i musicisti erano immobili e irrigiditi come burattini di legno. L'elefante era giunto in prossimità del palcoscenico e con la proboscite sollevava gli uomini uno dopo l'altro. Quando sollevò il Pierrot e lo fece scivolare giù nel collo della bottiglia, ci furono applausi e grida di giubilo. Poi avvitò il coperchio di metallo e il principe vi si sedette sopra. La curiosità del pubblico giunse al culmine nell'istante in cui fu chiaro che il Pierrot temeva la finestrella della portantina. Poi, d'un tratto, si colpì la testa come impazzito. Quasi avesse visto qualcosa di terribile. Cadde in ginocchio e prese a strapparsi i capelli. Poi saltò su e cominciò a correre all'interno della bottiglia ad una velocità tale che, a causa delle distorsioni che il vetro rifletteva, a volte sembrava di vedere soltanto un fazzoletto chiaro che svolazzava in giro. Il pubblico si lambiccava il cervello nel tentativo di capire che cosa ciò avesse a che fare con la dama della portantina. Si percepiva soltanto un volto pallido, pigiato sulla finestrella, che guardava in moto la bottiglia. Ma tutto il resto era in ombra e si poteva soltanto cercare di indovinare. Ma cosa significa questo lugubre spettacolo? Bisbigliò il domino in blu ed, angosciato, si accostò al giovane Hans. Gli spettatori eccitati si scambiavano a bassa voce le loro opinioni. Non credo che questo spettacolo voglia avere un senso vero e proprio. Solamente cose che non rappresentano nulla di intellettuale sono in grado di trovare l'accesso segreto dell'anima, disse una salamandra. E' come ci sono individui che alla vista delle secrezioni acquose dei cadaveri dissanguati, sono colti da un'ebbrezza erotica ed emettono fiocchi grida estetiche, egualmente esistono anche, insomma, voluttà e raccapriccio hanno origine comune, interruppe il pipistrello. Ma credimi, tremo in tutto il corpo per l'agitazione. Qualcosa di cibilmente terrificante grava nell'aria e non riesco a liberarmi di tale sensazione che ogni tanto mi cala addosso come un panno pesante, e se dipendesse dallo spettacolo mi pare di no. «Essa emana dal principe Darashko, perché è seduto lassù sulla bottiglia, in apparenza così impassibile, eppure talvolta il suo volto è percorso da fremiti. Sta succedendo qualcosa di sinistro, non posso far a meno di pensarlo». «Credo di aver scoperto il significato simbolico. Esso si addice perfettamente a ciò che hai detto», sintromise Melachon. «L'uomo nella bottiglia non rappresenta forse l'anima racchiusa nel corpo che deve stare a guardare impotente i sensi, le marionette, che si dilattano impunemente e si dilettano impunemente, e tutto va incontro alla putefrazione inarrestabile del vizio». Forti risate e applausi gli troncarono il discorso. «Il Pierrot si era accovacciato sul fondo della bottiglia e si era conficcato le unghie delle dita nel collo. Poi spalancò di nuovo la bocca, in preda ad un'indefinita disperazione, indicò prima il proprio petto, poi verso l'alto, e infine congiunse supplichevole le mani come se volesse pregare il pubblico di qualcosa. «Vuole qualcosa da bere, una bottiglia così grande, e dentro non c'è neppure lo champagne, maionette. Dategli da bere», gridò uno spettatore. Tutti risero e applaudirono. In quell'istante il Pierrot balzò in piedi e si strappò i vestiti bianchi dal petto, e dopo aver barcollato cadde a terra a lungo disteso. «Bravo, bravo Pierrot! Hai recitato magnificamente! Da capo, da capo!» La folla giubilava. Ma, poiché l'uomo non si muoveva più e non sembrava aver l'intenzione di ripetere la scena, gli applausi a poco a poco scemarono e l'attenzione generale si rivolse alle marionette. Queste erano ancora nella stessa spetrale posizione di prima, eppure si leggeva sui loro volti una sorta di tensione che in precedenza non si era percepita. Sembrava che aspettassero un segnale. Il nano, gobbo, con il viso bianco come la calce, infine volse cautamente lo sguardo verso il principe d'Araschko. Il persiano non si muoveva. I suoi lineamenti erano come scomparsi. Finalmente, una delle figure che erano sullo sfondo, un moro, s'avvicinò, esitante alla portantina. Aprì la portiera e accadde allora una cosa molto strana. Il corpo rigido e nudo di una donna ne uscì fuori e cadde riverso con un rumore sordo. Per un attimo silenzio di tomba, poi migliaia di voci gridarono confusamente e la sala riecheggiò. Che cosa? Che cosa è successo? Marionette, scimmie e musicisti, tutti quanti balzarono in piedi e le marionette si precipitarono sulla scena. La principessa, la consorte di D'Araschko, giaceva sul pavimento completamente nuda, legata ad una grata d'acciaio. I punti in cui le corde le incidevano la carne erano iniettati di sangue bluastro. In bocca le avevano conficcato un bavaglio di seta. Un terrore indescrivibile paralizzava quella povera gente. Il Pierrot risuonò ad un tratto una voce. Il Pierrot, un'angoscia folle ed indefinita, penetrò come un colpo di pugnale nel cuore di tutti.